Ehi ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Magnus Finalmente abbiamo raggiunto i 500 iscritti, vi ringrazio tutti quanti, vi ringrazio perchè commentate, vi ringrazio perchè mi seguite Vi ringrazio perchè supportate sempre le serie Quindi, bando alle ciance, non perdiamo tempo e diciamo subito il vincitore del contest, come avevo fatto vedere nel video precedente Ho fatto il sorteggio e ora vi dico il nome del vincitore, si chiama Rosino Norcia Ok, hai vinto tu il gioco messo in palio nel contest, ti ho già mandato un messaggio, mi raccomando inviami i tuoi dati, il tuo vero nome Altrimenti non posso spedirti il gioco E naturalmente spero che una volta che riceverai il gioco, di fare una bella foto, metterla su Facebook, su Google Plus In maniera tale che io poi la possa condividere e farla vedere e mostrare anche agli altri Comunque ragazzi, anche se non avete vinto, mi raccomando, partecipate sempre, seguitemi sempre Perchè comunque cercheremo di fare altre contest Comunque speriamo l'importante è che ci divertiamo sempre insieme Vi ringrazio comunque sempre tutti Comunque andiamo avanti e cerchiamo la nuova scatola dei giochi Ne ho salvato una, se non ricordo male Aspettate un momento Dovrebbe essere proprio qua Si, ho scelto questa, quindi andiamola a vedere insieme Allora, solita fase di costruzione Diciamo che, vi devo essere sincero, mi ha appassionato molto soprattutto il titolo di questa scatola Comunque, qua dice che nella descrizione impara a padroneggiare la forza e l'ambiente che ti circonda In quella scatola dei giochi progettata per migliorare le tue abilità di Jedi Difficoltà da media a estrema Solo con personaggi con forza e spada laser Per cui la nostra Asso Katano dovrebbe essere quella che calza a pennello Guardandola così, sembra veramente fatta bene E' molto molto divertente Dobbiamo solamente vedere come... Diciamo che c'è molta erba Ok Qual è la situazione? Ok, vabbè Ci sono anche dei grilli Ammazza, c'è nebbia Non si vede un tubo Non si vede niente Ok Allora, qui Saltiamo suci sopra Ah, bene arrivato No, non devo afferrare Ok, sì Un Jedi diventerà... Ah, ebbè, giustamente parla come... Ok Domande Non ci sono domande Va bene E che... Ah, no, vabbè Pensavo che stessi cadendo Va bene Cosa dobbiamo fare? Fearless to anger Benissimo Ok L'importante è che non ci tratti male Ah, togliati la spada magari dopo diventa troppo indifferente Ok, quindi procediamo Ci sono quattro holocrons qui Ok Oh Porca miseria Quindi veramente è un percorso che dobbiamo fare Cavolo Aia Quindi dobbiamo arrivare fino a qua La paletta Praticamente È lunghissimo Vabbè, dai che La nostra soccatana La vedo abbastanza Pronta Ok Andiamo avanti E cerchiamo almeno i prossimi personaggi Come è stato detto da questa parte Possiamo andare avanti Questa ce ne sta Un'altra Quindi usiamo sempre la forza Dai Dove sta? Ok Dobbiamo difendere Ok Vader Quindi affronteremo Darth Vader Aia Aia Oh, oh Sento già il frastuno Ok Cavolo ragazzi Aia 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 Ok Attenzione Cerchiamo di Aia Dove sta? Dove sta? Dove sta? Attenzione Porca miseria L'ho scansato per poco Ah No Ah Aspetta Aspetta Oh, oh, oh Oh, oh, oh Attenzione Meno male che Ok Aspetta Vediamo di colpirlo Aspetta Allontanti Allontanti Cavolo Attenzione Attenzione Cerchiamo di Ah Porca Ah Aia Aia Cerchiamo di Cerchiamo di scappare Aspetta Aia Questo arriva 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 Ok, vai Attacca L'attacca L'attacca Dove stai? Dove stai? Dove stai? Attacca L'attacco Eh, ma mica tanto E non essere troppo convinto Che sta prendendo? Ah Ah Cavolo Ah Dove sta? No Ah Lasciami libero Ah Attenzione Attenzione Aiaiaiaiai Questo è agile Però Ah Aia Cavolo 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 Attenzione Attenzione Cavolo Ok Prendiamo l'energia Prendiamo l'energia Cavolo Ah Vai 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 Dalla forza Di Krescu Vai 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 Ah Aia Oh Cavolo Aspetta Vediamo di fare così Aspetta Vai Attaccalo Attaccalo Porca Mi sento Vai Vai Scappa Scappa Cavolo Aspetta Aspetta Vai Attaccalo Porca Porca Misera Aiaiaiai Ci ha preso Ci ha preso Porca Misera No No Scappa 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 Vai 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 Ah Ok Beccato Beccato Eh Però Ci ha beccato Anche lui Cavolo Attenzione Vieni qua Oh Cavolo Ok Perfetto Abbiamo Schianzato Ok Vai Vai Dove stai Dove stai Vai 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 Attaccalo Ok Più forte Più forte Ah Scappa 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 Oh Oh Dove stai Dove stai Oh L'abbiamo schianzato Per poco Attenzione Attenzione Dove va Ah Allontaniamoci Allontaniamoci Troppo fuoco Ah Attenzione Ok Perfetto Vai 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 Qua lo dobbiamo Beccare Qua lo dobbiamo Beccare Ah Ok In testa Vai Scappa 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 Attenzione 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 Al fuoco Dai che lo possiamo Beccare adesso Vieni Vieni Oh Attenzione Ai 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 Ha ragione Qual è il tuo problema Ah Ah Scappa Scappa Cavolo Salute Bassa Salute Bassa Dove stava Ok Prendiamo un po' di energia Salute Bassa Ok L'abbiamo presa L'abbiamo presa Scappa 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 Ok Aspetta Vieni qua Ok Scansato Vai 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 Dove vai Vieni qua Vieni in testa Non manco pure Questo È forte ragazzi È fortissimo Aspetta Aspetta Ancora un altro po' Ah Che fai qua sopra Dove sta Scappa Scappa Aspetta Porca la paletta Ragazzi Porca la paletta Ok No 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 Olè 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 Porca miseria Vieni qua Vieni Vieni Vai Vai Vieni Vieni Ok Scansato Vai Vai Ok Ok Perfetto Più forte Più forte Porca miseria Questo è fortissimo D'amore Vieni qua Ah Ah Scappa Ok Ah Ahia Scappa Attenzione Ocio Ocio Ah In testa Ah Ancora più forte Vai Colpisci 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 Aia Scansati Scansati Oh Oh Porca miseria No No Scappa Scappa C'è fuoco Aia 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 Attenzione Troppe spade Troppe spade Zoom Zoom Oh Dove arrivi Oh Cavolo Beccato Ah Ah C'ha pure la tosse Questo fuma troppo Vai In testa Ah Scappa Aia Aia Scappa Scappa È quasi morto È quasi morto Save Ok Vai 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 Sei mio Ragazzo Sei mio Vai Vai Aia In testa Aia Ok Ocio Attenzione Aia Con sto fuoco È quasi morto È quasi morto Ragazzi È quasi morto Ok Ah Eccolo qua Ok Adesso ti diamo Una bella colpa In testa Vai 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 Che sei quasi morto Aiaiaia Aiaiaia Attenzione Aspettiamo Ok Fuoco in arrivo Questo arriva Dove stai Dove stai Aiaiaia Via via Vai 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 Attaccalo Ok Credo che sia morto Sette Sei Cinque Quattro Tre Penso che abbiamo quasi Vinto Due Uno No Ce n'è altro Ciavolo Aia Ti pieghi a me No Non mi piego a te Aiaiaiaiai Ok Attenzione Non puoi sconfire Aiaiaia Ok Attenzione Mi serve l'energia Mi serve un po' di energia Non ce l'abbiamo La tua tenacia Sarà la tua rovina Dove stai Dove stai Aspetta Stavo qua dietro Dove stavo Cavolo Non ci abbiamo L'energia Aiaiaiaiai Dove stai Un po' di Ok Un po' di energia Dovrebbe Ok Aiaia Aiaiaia Vero Vai vai Attaccalo Attaccalo Attenzione Aiaiaia Attaccalo Attaccalo Alle spalle Forza Mi forte Soka Soka Aiaiaiaiai Soka Aia La forza Attenzione Attaccalo, attaccalo alle spalle Cavolo Ok vai attaccalo Più forte Eccolo qua Lo distruggiamo Aia Attenzione Non troppo spavarti Non troppo spavarti A questo è forte Aia Sì infatti ha fatto male Attenzione In testa, in testa Vai Colpisci Ah porca miseria Ma perché c'ha sempre Si difende Troppo bene si difende Troppo bene Aia No no La speranza c'è sempre Porca miseria Sì l'ha parato L'ha parato Ma anche no Aspetta Vai Aspetta Aiaiaiaiai Ci ha preso Ci ha preso Aia Vediamo se riusciamo a bec... Alzati Ah Vai vai Scassi Al tacco letale Oh Atterra Atterra Porca miseria Vai Vai attacco Attacco alle spalle Alle spalle Alle spalle Porca miseria Ok Ma veramente sono una donna Non sono Sono una donna Non sono un uomo Attenzione Aia Aia Mi ha becchiato Ragazzi Tu Cadrai Si cadrò Cadrò Attenzione Dove sta La forza Aia Un po' di energia Un po' di energia Un po' di energia Basta Basta Dove sta l'energia Aspettate un attimo Vediamo se riusciamo a beccarla Ce n'è un po' No Non ce n'è più Cazzo Sottomettiti O soffri Ma anche no eh Ok ok Dai che è quasi fatta Aspettate vediamo se riusciamo A continuare A Guarda che sei una donna eh Ripeto Aia Quasi fatta Aia 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 Porca miseria Questo non si ferma mai Vai attaccalo Attaccalo Aia Ok vai Attaccalo Ok perfetto Ancora Allontanati 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 Asoka Aia Attenzione Porca La tua tenacia Sarà la tua robina Aia Attenzione Attaccalo 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 Passa Iaiaiaiaiai Attenzione Non ci facciamo fregare adesso Non ci facciamo fregare adesso Non ci facciamo fregare adesso Vai vai Attenzione Oh Porca miseria E lasciami stare Fatti lontano Vai Ok Allontanati Allontanati Un colpo e moriamo Un colpo e moriamo Un colpo Poi moriamo Attenzione Ah Preso Attenzione Attenzione Dai dai che è morto ormai Ormai è morto Non aspettarti di vincere Aia Ah Porca paletta Aia Vai Eh Niente niente Non muore Non muore O sarai sconfitto Aspetta 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 Si si lancia Ah no Adesso 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 Vai Attaccalo Aia Aiaiaia Vai Adesso Niente ragazzi Ultimo colpo Questo è l'ultimo colpo Ultimo colpo Ma sicuramente Ti affrontiamo Eccolo qua Ah Ancora Vai E andiamo Cosa dobbiamo aspettare più adesso E' finita ormai Abbiamo sconfitto anche lui Sconfitto Oh porca miseria Porca paletta ragazzi Questa è infernale Questa scatola Non ho alcun interesse A lasciarti vincere Attenzione Attenzione Oh 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 Aia Non c'è via di fuga Le tue difese sono inutili Contro il lago oscuro Attenzione Attenzione Aiaia Ma questa ce la prendiamo Aiaia Attenzione Verrà eliminata Vai Attacca l'attacca l'attacca Vai Attenzione Attenzione Scappa 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 Porca miseria Attenzione E' arrivata l'ora di affrontare Vai Vai lancialo Ancora Aia Vai 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 Ah Ok Perf Cavolo L'abbiamo beccato Oh Attenzione Che ci cadono in testa Oh Ragazzi Questi sono troppi Ah Prendi 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 Dove stai Ecco qua Aia Vai Aia Ok Perfetto Dove stai Dove Attaccalo Aia Attenzione Attaccalo Scappa scappa Usce un'altra bomba Un'altra bomba Prendila Prendila No 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 Mi ha preso Mi ha beccato Aspetta Ok Vai vai Aia Attenzione Vai Vai Scarica Aia In aria No Ma perché Pensi Ok Perfetto Incontrerai Il tuo destino Aia Aia Vai Vai Ok Perfetto L'abbiamo beccato L'abbiamo beccato Non c'è via di fuga Eh ma non di nuovo Ma perché non c'è via di fuga Vai Ok in testa Aia Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Ai Ok Aia Scappa 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 Ah Ok 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 vai Scappa Scappa Aspetta Vai Scappa 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 L'abbiamo beccato L'abbiamo beccato Vai vai Perfetto In testa Vai Ok Vai attaccalo Porca miseria Lo stavamo attaccando E' quasi morto ormai Come noi del resto Attenzione che fa questo Non Non di scatenare Ci serve una bomba Davvero troppo facile Prendi 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 Ananman Porca Aia Vai attaccalo Ma No Ma no Ma no Asoka Asoka Ma cosa ci fai Scappa Adesso Voglio una bomba Dammi una bomba Attenzione Ok vai 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 Ok Sulla tesolina Vai vai E vai Attenzione Vai attaccalo Di spalla Cazzo Dai dai Dove sta Dammi una bomba Dammi una bomba Ok Questa è la bomba Attenzione Scaricati Vai Avanza Ok perfetto Bomba Beccati questo regalino Ok perfetto Scarica Ok vai attaccalo Attacco Aia Aia un po' di energia Eh vabbè ma ormai È quasi fatta Ragazzo Vai vai Scarica più fuori Tu mi sottovanti Ma no Aspetta È quasi morto È quasi morto Ci servirebbe un'altra bomba Per finirlo Oh eccola Eccola Era nascosta Beccati Beccati questo regalo Ok Aia Vai Non mostrerò Alcuna Porca No scappa Scappa Attaccalo Vai 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 Bomba bomba Attaccalo In testa In testa Porca Ho scansato Ok è morto Ok ragazzi Una sfida Infernale In questa scatola De giochi Ci sono ancora Altre abilità Che sicuramente Andremo a fare Spero come sempre Che questo video Vi sia piaciuto Non vi dimenticate Sempre di commentare Non vi dimenticate Sempre di mettere Mi piace Un saluto Sempre a tutti Gli iscritti E soprattutto Al vincitore Mi raccomando Non ti dimenticare Di rispondermi Perché se non risponderai Entro 5 giorni Dovrò rifare Le estrazioni Vi saluto a tutti Siete tutti Grandissimi Noi ci vediamo Sempre al prossimo video E bye bye